E da questo momento è in salone, passiamo al cambio del console, più importante di tutta la notte, spazialate, palipite, c'è stato un piccolo problema di percorso, dicendo che le persone sono formate da due peri, questa notte nebbene solo uno, e tutte le altre, le restate le condizioni naturali della vita non hanno permesso di essere qui con noi, ma l'importante di noi come il cuore di uno di questi artisti, anche se sono un corpo, e noi in Sound Spazio 4 italiani da sempre e per sempre faremo festa, ma noi non ci interessa, noi andiamo avanti e quindi le mani verso il cielo per chi è riconosciuto la canzone, le diseggete del 2008 per dare il benvenuto del nostro cielo! Grazie a tutti, grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!